Ormai alla fine è il nostro futuro. Mi regalo, mi regalo. Ci guadagni sempre. Mi fa noia. E allora questo di... Allora questo di... Si, si... Forza! Grazie 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 eccolo, con la diede ha fatto un'azione bellissima lo falcio bravo ma dovrebbero mettersi i parastinti è una guerra impare ma ce l'hanno tutti col Chiara adesso dopo Roma non entri in campo dalla domenica rossa se non ci avrà stinti non entri in campo io ce l'ha nella borsa anche la calza sotto no ma guarda dice che l'analitica per me dice si 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 Nicola, dai! Grazie a tutti!